Buongiorno a tutti, sono l'ingegner Carlo Tuzza della CSP FEA. Vorrei presentarvi il corso che si svolgerà venerdì 14 giugno presso la nostra sede in via Zuccherificio 5D a Este, ma anche per la prima volta in diretta streaming per coloro che potrebbero essere interessati. Il corso tratta della vulnerabilità sismica di edifici esistenti, sia in cemento armato che in muratura. In particolare si rivolge a coloro che hanno già confidenza nell'utilizzo del software MIDAS, GEN, e che vogliono utilizzare anche le parti di non linearità. Verranno fatti dei dichiami sulle analisi pushover, chiami teorici, si discuterà quando conviene e se conviene utilizzare questa tecnica. Verrà spiegato come funziona il metodo a telaio equivalente, quando è utile utilizzarlo, quando invece è superfluo, metodi di plasticità diffusi tramite modellazioni complete a plate o a brick, analisi pushover per telai in cemento armato con formulazioni di ceneri plastiche secondo IC8 e verifiche secondo IC8. E infine verrà svolto e discusso assieme un edificio di tipo misto, cemento armato e muratura. In particolare verrà introdotta una nuova, un nuovo metodo di modellazione che verrà discusso e svolto assieme.